L'intervento di questa mattina è mirato soprattutto a far comprendere come mai continuiamo a parlare di rigenerazione urbana, in quanto purtroppo in Italia abbiamo ancora delle situazioni di vegetazione urbana molto degradata, di qualità bassa, quindi anche in quantità abbastanza limitata rispetto a tutte le altre città europee. Continuiamo ad avere problemi di consumo del suolo e quindi dobbiamo cominciare veramente non solo a parlare di rigenerazione urbana, ma a fare delle progettazioni integrate, quindi con tutte le professionalità che devono essere coinvolte, per riuscire a creare delle città vivibili, sostenibili e quindi con una qualità della vita veramente adatta ai cittadini e ai nostri eredi del futuro.